Eccoci qua con la seconda parte di Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, abbiamo salutato l'ospite della prima parte, anche gli candidato all'Assemblea regionale siciliana e in questo secondo spazio di mezz'oretta circa proseguiamo con l'approfondimento delle tematiche che stanno a cuore a un altro candidato alla regione, in questo caso Dario Safina che è candidato con il Partito Democratico appunto nella lista che riguarda la provincia di Trapani, si vota il 25 settembre lo sapete sia per le nazionali che per le regionali, per le regionali vediamo di capire un pochino cosa ha aggiunto alla sua battaglia, agli impegni che si è già preso anche attraverso noi in questo studio la settimana scorsa il candidato Dario Safina. Ho visto che ti sei lanciato prendendo a cuore un'emergenza che in campagna elettorale di solito tutti fanno finta di non osservare che non esista questa problematica, invece tu proprio coraggiosamente l'hai affrontata parlo della questione legata agli obiettori di coscienza negli ospedali, no? Ma sì, perché io penso che la campagna elettorale non serva per nascondersi, ma serva proprio per comunicare ai cittadini cosa noi pensiamo della pubblica amministrazione, cosa noi pensiamo dei diritti, dei doveri che i cittadini devono rispettare, delle impostazioni sociali, economiche, culturali che vogliamo mettere in campo e dunque noi in questo paese abbiamo una legge, una legge che è stata, diciamo, che ha superato il vaglio anche di un referendum abrogativo che è la 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza. Io ho avanzato una proposta che peraltro è più complessa, viene sicuramente semplificata come superamento del problema dell'obiezione di coscienza, però parte da un presupposto che peraltro ha già avuto modo di trovare applicazione compiuta nella regione Lazio, quindi non è una novità. Dario Safina non si inventa niente, ma vorrebbe che le migliori pratiche che vengono praticate in altre strutture sanitarie lo venissero anche nel nostro territorio. Dunque cosa proponiamo? Io propongo innanzitutto che si potenzi la rete di ascolto, la rete dei consultori affinché la scelta possa essere realmente consapevole, affinché non accada più quello che è accaduto qualche anno fa in questa città, perché i drammi che stanno vivendo, perché ancora oggi io immagino che vivono quei drammi, noi dobbiamo evitare che si ripetano, quindi dobbiamo accompagnare le donne a una scelta consapevole. Se è possibile evitare la pratica dell'introduzione della gravidanza che ben venga, ma deve essere una scelta appunto fatta dopo, con il sostegno della famiglia ma anche delle strutture pubbliche. Dopodiché, nell'ipotesi in cui la coppia, la donna, decidesse di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza, è chiaro che noi dobbiamo superare il problema degli obiettori di coscienza. Le strutture pubbliche che garantiscono, che devono garantire ampi margini, diciamo, di qualità, devono essere dotate di personale medico e non solo, che si renda realmente disponibile alla pratica, perché noi abbiamo un dovere fondamentale, che è quello di tutelare la salute delle donne e chi, meglio di una struttura pubblica, può tutelare la salute delle donne che decidono volontariamente di addivenire all'interruzione volontaria della gravidanza. Questo significa che bisogna fare concorsi ad hoc per assumere personale non obiettore, introducendo tutti quei meccanismi giuridici consentiti che evitino che i medici assunti come obiettori poi decidano d'amblè di divenire obiettori. Questa legge... Ed è quello che hanno fatto nella ragione l'altra. Esattamente, ha superato pure, diciamo, diversi ricorsi. Ha superato il vaglio, ha superato il vaglio di diversi tribunali amministrativi, ci sono diverse sentenze che dicono che la procedura è assolutamente legittima e aggiungo pure qualcuno ha obiettato, ma se è superato il periodo di prova dopo l'assunzione il medico diventa obiettore, come si fa? Il medico non potrà fare ciò perché rischierà il posto di lavoro, perché nel momento in cui io ti assumo per lavorare in un'unità operativa che si occupa di rispetto della 194, nel momento in cui tu sei assunto lì e nel momento in cui decidi di venire obiettore, è chiaro che diventi soprannumerario, perché sei stato assunto per lavorare lì. Sei soprannumerario, non puoi più ovviamente lavorare e quindi i tecnicismi giuridici per evitare che la norma venga girata ci sono tutti, li stanno praticando, ma ciò che conta non sono i tecnicismi giuridici, ma è il diritto delle donne a vedere tutelare la loro salute e a fare una libera scelta consapevole, questo è quello che mi preme ed è un impegno preciso, qualcuno dice ma perché lo prendi? Ah potrebbe essere strumentalizzazione, io non ho mai visto chi strumentalizza un argomento così difficile in campagna elettorale, generalmente si strumentalizzano gli argomenti che possono creare ampissimo consenso, io penso che questa sia una proposta di civiltà e noi con le proposte di civiltà vogliamo creare consenso, dunque dobbiamo avere il coraggio delle nostre idee e affrontare anche temi difficili, la differenza tra la politica con la P maiuscola e la politica con la P minuscola sta tutta lì, nella capacità, nella voglia di confrontarsi su tutto, non bypassare problemi difficili e poi si vedrà quando sarò eletto, io prima ancora di essere eletto voglio dire alle persone, in questo caso alle donne, alle famiglie, come intendo affrontare una questione che è dirimente e che penso interessi, guarda anche io sono convinto che i cattolici, le donne, soprattutto le donne cattoliche mature, sono convinte che questa sia la strada giusta da perseguire, perché noi non stiamo discutendo di obbligare, noi stiamo dando una garanzia di sicurezza sociale a chi sceglie, a partire da una maggiore informazione attraverso i consultori non c'è dubbio, la maggiore informazione, il supporto, il sostegno psicologico, perché è un trauma, è un trauma che una donna si porterà dietro tutta la vita e allora questo trauma noi lo dobbiamo ovviamente, l'impatto di questo trauma lo dobbiamo ridurre il più possibile e quindi bisogna agire sul doppio binario. Una campagna elettorale che è insomma molto insordina questa qua, basata certamente sul slogan tra l'altro pure pochi, arrivi tu con un tema così scottante. Ma perché io non ho mai fatto politica per slogan, ho tanti nemici, ho tanti avversari, nemici in espressione, ho tanti avversari perché ho sempre messo la faccia nelle cose che faccio, non mi sono mai nascosto, ho sempre preso posizioni chiare, nette, che possono consentire ai cittadini di dire, Safina sta da questa parte e non da questa, mai nel limbo, il limbo è il luogo dove prospera la cattiva politica. Noi questo limbo lo dobbiamo assolutamente scacciare, lo dobbiamo eliminare. Senti, noi andiamo in onda mentre in maggio in questo momento, saranno le 21.30 circa, in questo momento sei tu al comitato elettorale di corso per Sant'Imantarella che hai appena inaugurato. Ma ha senso nel 2022 ancora avere i comitati elettorali? Ma guarda, è sicuramente, molto fanno i social, ma è comunque un momento di contatto, un momento in cui anche chi ti sostiene vuol sentirsi galvanizzato dal candidato, poi ci sono alcuni curiosi che si avvicinano. È chiaro che il modo migliore per fare politica e la campagna elettorale è quello di andare, io l'altro giorno ho fatto un incontro con alcune categorie produttive, domani ne avrò un'altra con gli artigiani, ho incontrato le categorie dei commercianti, ho incontrato alcune imprese, ho incontrato alcuni lavoratori di alcune imprese che vivono un particolare disagio, dunque il modo migliore è sempre quello di andare casa per casa, azienda per azienda e dunque è luogo di lavoro per luogo di lavoro, perché il contatto, il poter vedere quello che accade, il potersi confrontare con le persone direttamente è il modo migliore per poter comprendere i problemi. Io ieri per esempio ho parlato con un'associazione ambientalista con la quale mi sono confrontato sui temi relativi alla gestione delle riserve e al Parco Nazionale e alla proposta di istituzione del Parco Nazionale della costa delle isole Egadi e della costa trapanese, che è un tema che è molto importante perché potrebbe essere grande fattore di sviluppo per il nostro territorio e mi confronterò ancora con altri, vorrei confrontarmi col WWF perché noi abbiamo un grande problema, secondo me abbiamo una grande opportunità, che è quello di consentire che il porto, il nuovo waterfront di Trapani e le saline diventino insieme un grande volano di sviluppo del nostro territorio, il modello di gestione delle saline della riserva di Trapani e Pacifico è un buon modello di gestione, bisogna trovare tutte quelle misure che proteggano la riserva dalla scelta giusta di fare impresa nel nostro territorio e questi sono temi rispetto ai quali la Regione deve intervenire perché deve essere insieme agli enti locali e insieme agli enti gestori il centro regolatore che fa una sintesi virtuosa di interessi collettivi. Il fatto che tu sia un avvocato specializzato nella tematica del lavoro, se non ricordo male, è un vantaggio, è un'aggiunta rispetto ad altri che magari fanno altre professioni? Io non penso che i politici debbano essere avvocati, ingegneri o debbano essere politici e tecnici insieme, io penso che la politica sia frutto di una maturazione culturale, di una sensibilità sociale, culturale, di una visione economica, di un modello economico, però è chiaro che il mio essere stato vicino ai lavoratori, vicino alle imprese, mi ha fatto maturare alcune sensibilità, mi ha reso più maturo in quelle che erano le mie concezioni concezioni di base di un modello di sviluppo economico. Io ho per esempio potuto percepire come noi riteniamo che per molto tempo chi ha la mia storia ha ritenuto che i deboli fossero solamente lavoratori dipendenti, invece bisogna prendere atto e oggi ancora di più bisogna prenderne atto che la crisi energetica e il Covid di prima stanno falcidiando le nostre imprese, il concetto di debolezza è un concetto che va esteso, ci sono artigiani, commercianti, piccoli imprenditori che sono più deboli di tante categorie di dipendenti, non solo pubblici ma anche private, faccio un esempio, il dipendente probabilmente di una grande azienda quella Fiat oggi è più tutelato di un piccolo artigiano della città di Trapani e dunque bisogna che si metta in campo un sistema di protezione sociale, un sistema di protezione del nostro modello di sviluppo che è basato sulla piccola e media impresa che può creare tanto lavoro e che può creare tanto progresso. Mi fai un esempio concreto appunto di normative, di tutela. Ma guarda, ti faccio l'esempio, oggi noi dobbiamo per esempio lavorare molto fortemente sul credito di imposta a favore delle imprese che stanno subendo. Guarda, io ho un amico a cui rivolgo un saluto perché peraltro in questi giorni il fondatore dell'azienda è deceduto e quindi di un'azienda che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e a lui rivolgo il saluto per quello che hanno creato anche nella vicina Alcamo. Un'azienda che prima spendeva 150 euro al giorno, 170 euro al giorno per accendere il forno, un forno a quattro linee adesso ne dovrebbe spendere 700 per ogni forno, 2800 euro. Allora, o noi subito interveniamo con una manovra pesante, massiccia, a sostegno delle imprese che hanno, che sono soprattutto grandi imprese energivore, oppure noi tramite il credito di imposta, tramite finanziamenti diretti, oppure noi rischieremo di buttare giù via il bambino con l'acqua sporca, rischieremo di non avere più dipendenti, rischieremo di non avere più imprese nel nostro territorio. Quindi il credito di imposta è fondamentale, ma anche finanziamenti immediati, però lì è fondamentale la riforma della pubblica amministrazione, perché non è pensabile che io faccio la pratica oggi e il finanziamento come è accaduto per esempio per il PSR nell'agricoltura, nell'artigianato, i fondi a fuori dell'artigianato, lo faccio oggi la domanda anche per il commercio e il finanziamento mi arriva dopo quattro anni. Dopo quattro anni l'impresa, quell'investimento l'ha bello fatto e se ha affrontato un problema di liquidità l'ha probabilmente speriamo superato e se non l'ha superata è già chiuso. Allora, una riforma, noi dobbiamo lavorare su una riforma quindi della pubblica amministrazione che non si basi sui controlli preventivi, ma si basi sui controlli post successivi, perché noi dobbiamo dare fiducia ai nostri cittadini, non possiamo pensare, sì c'è stato il malaffare, c'è stato chi si è agevolato illegittimamente di questi contributi, di questi finanziamenti, però noi abbiamo bisogno di passare a un sistema di controlli successivo che sia serio, che punisca ai malfattori, perché devono essere puniti i malfattori e devono essere stromessi dal mercato perché fanno concorrenza sleale ai loro competitor, però dobbiamo avere fiducia nell'impresa e nelle famiglie siciliane. Posso fare una provocazione? Sì, sei passato da dire una cosa di sinistra sugli obiettori di coscienza a una cosa appena liberale. Ma guarda, io penso che una delle più profonde innovazioni di chi ha la mia storia è proprio questa, noi ci rendiamo conto come lo sviluppo passa dal sostegno all'impresa, ma passa ovviamente dalla qualità del lavoro, dal rispetto ai diritti dei lavoratori, perché se non c'è sviluppo, crescita anzi, se c'è solo crescita senza tutela dei diritti degli imprenditori, senza tutela dei diritti delle donne, senza tutela dei diritti dei giovani, non c'è progresso. Noi aspiriamo al progresso, non aspiriamo alla crescita. Siamo un popolo di partita IVA, sempre di più. Ma guarda, siamo un popolo di partita IVA sicuramente, di piccola e media impresa, però siamo un popolo che può attraverso la piccola e media impresa, attraverso i servizi, tornare a essere un popolo dove il lavoro dipendente svolge un ruolo fondamentale. Perché è chiaro, noi non dobbiamo immaginare le industrie pesanti del nostro territorio, ma possiamo pensare a imprese che svolgono servizi. Il turismo del resto, noi vogliamo che il turismo si sviluppi nel nostro territorio, abbiamo bisogno che a fianco agli operatori turistici ci siano le imprese di servizi che favoriscono lo sviluppo di quel settore. E parlo di servizi spusoriati a partire dalla pubblicità, a partire dalla promozione, a partire dai servizi di pulizia, dai servizi di catering, di tutti i service che noi conosciamo. Sono servizi che si possono sviluppare e che possono dare tanto lavoro ai cittadini trapanesi e non solo. In un'assemblea regionale siciliana, qualora diventassi deputato, in quale commissione ti piacerebbe essere inserito? Tantomeno quale chiederai? Ma guarda, penso che mi piacerebbe stare nella commissione affari istituzionali, perché immagino pure, proprio per quello che dicevo prima, che la riforma delle istituzioni regionali è fondamentale, immagino pure che la completa attuazione e pratica attuazione dello statuto sia un elemento sul quale bisogna riflettere. Immagino pure che da quella commissione passeranno tante riforme importanti e mi piacerebbe poter essere protagonista già in commissione, fermo restando che poi tutti i deputati lo devono essere in aula, ma già in quella commissione mi piacerebbe starci, devo dire la verità. Invece come si diventa il paladino, il difensore di un'intera provincia? Ma si diventa paladino, poi io non penso che... Il difensore, il tutore, facciamo così. Avendo chiaro che non ci sono comuni in competizione tra loro, ma che c'è un territorio che deve crescere insieme. Trapani, Marsala, Alcamo, Mozzara, Salemi, Castelvetrano hanno una grande caratteristica. Siamo tutti comuni di una piccola provincia che però ha bellezze uniche. Noi abbiamo il più grande parco archeologico d'Europa, Serinunt, abbiamo il teatro e il di Segesta, abbiamo Erice, abbiamo Mozzia, abbiamo le riserve delle saline di Trapani e Paceco, le cave di Cuse e a un ontilo di Schioppo abbiamo la riserva dello Stagnone, abbiamo la riserva dello Zingaro, la prima riserva siciliana, l'area marina protetta del Lega. L'area marina protetta del Lega. Allora di tutto questo va fatto sinergia. Non ci sono territori che devono rubarsi le risorse tra loro come hanno fatto in passato i deputati regionali che ci hanno rappresentato. Noi per esempio, lo dico sempre, l'ho detto a Marsala, l'ho detto forse già una volta qui, abbiamo l'esigenza che il porto di Marsala si sviluppi. È fondamentale perché il porto di Marsala potrebbe essere il porto del diportismo della provincia di Trapani, perché il porto di Trapani sta assumendo un'altra vocazione che è quella croceristica, che è quella della pesca, che manterrà, che è quella ovviamente del trasporto delle merci. Probabilmente non avremo spazio per un ulteriore incremento dell'attività del diportismo, che già è abbastanza radicato. E allora il porto di Marsala può divenire una grande risorsa per questa provincia, perché tanti siciliani non solo possono decidere di lasciare le loro barche qui e possono giovarsi della vicinanza delle isole a 6 miglia, 8 miglia, a 10 miglia, 11 miglia marettimo. E dunque questo che è il centro del Mediterraneo può consentire di far divenire Marsala e Trapani l'hub del diportismo siciliano. Aggiungo, e non è però con i cambi di nome che si fa, quelli sono con cose da campagna elettorale che può pensare il presidente Ombra perché magari deve sostenere qualche candidato marsalese. Dico Trapani-Marsala, Marsala si riferisce all'area del cambio di eliminazione e è qualcosa che per me l'aeroporto è importante, se si chiama aeroporto di Marsala, se si chiama aeroporto di Trapani, se si chiama aeroporto di Paceco, se si chiama aeroporto di Misiliscemi è importante e basta. Queste piccole operazioni da politica con la P maiuscola, come dicevo poco anzi, penso che lasciano il tempo che trovino e servono solo per alimentare qualche polemica sui social. Io sono per l'aeroporto, non sono per l'aeroporto di Trapani, sono affinché l'aeroporto Florio, perché si chiama aeroporto Vincenzo Florio, perché l'aeroporto Vincenzo Florio possa trovare un grande accordo con l'aeroporto Falcone-Borsonini-Palermo e insieme di venire l'hub, i due aeroporti, gli hub turistico-infrastrutturali fondamentali per la Sicilia occidentale. Quindi si è appena preso un altro impegno, cioè quello di lavorare affinché questa sinergia concreta, ufficiale... Noi non dobbiamo chiedere che l'aeroporto di Falcone-Borsellino non cannabializzi quello Florio, ma dobbiamo altresi chiedere che l'aeroporto Falcone-Borsellino non debba ovviamente pagare le eventuali perdite dell'aeroporto. Dobbiamo creare una serginia che sia virtuosa per tutti. Dobbiamo lavorare su questo, non su piccole operazioni di campanile o piccole operazioni di cabotaggio politico-elettorale. Pensare in grande. Pensare che da una... Con i piedi per terra. Con i piedi per terra, ma che da una sinergia può venire perché Palermo ha una crisi di crescita, non ha più probabilmente come espandersi, è full. Il nostro aeroporto, l'aeroporto della provincia di Trapani, può essere in sinergia quello che assicura a una nuova società la possibilità di aprire nuove tratte, anche non solo turistiche o di servizi ai cittadini trapanesi, ma anche commerciali. Certo. E allora su questo bisogna ragionare. Questa è l'avvertenza che bisogna aprire con la regione Sicilia. La regione Sicilia si deve fare garante di un percorso che consenta all'infrastruttura aeroportuale della nostra provincia e della nostra regione della Sicilia occidentale di vivere insieme, di svilupparsi insieme. Del resto è quello che sta avvenendo con l'autorità di sistema portuale. L'autorità di sistema portuale, collaborando con le amministrazioni locali, con Trapani l'ha fatto benissimo, sta lavorando affinché i porti di Trapani, Termini Merese, adesso anche Gela, Palermo, si sviluppino insieme. E ci sono riusciti. E ci stanno riuscendo. Allora, le buone pratiche esistono, bisogna avere solo il coraggio di comprendere che le infrastrutture non servono per fare operazioni elettorali, ma per creare il sviluppo. Dobbiamo trovare un Pasqualino Monti, un altro da mettere un po' dappertutto in modo che le cose funzionino. Bisogna trovare manager sicuramente che hanno una visione, ma che devono essere sostenuti dalla politica, non solo locale, ma anche locale, affinché si possa realmente progredire nel senso appena invocato. Devo dire un percorso del genere. Dara Safina, padre, marito, politico, sportivo. Stamattina ho fatto la levataccia per vedere Sinner giocare contro Alcarazzo, devo dire la verità. Ho ritardato un po' per questo, perché sono un uomo di sport, mi piace. Ieri ho incontrato un'associazione sportiva, devo dire la verità, ho ritardato l'appuntamento successivo, ho chiesto a chi dovevo incantare, perché mi ha fatto piacere parlare con, a me non piace l'espressione sport minor, diciamo uno sport meno conosciuto. Ho parlato con un'associazione, diciamo, no, 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 pattinaggio, con un'associazione, diciamo, con un SD che si occupa di pattinaggio, ed è stato un confronto bellissimo perché ho apprezzato l'impegno degli allenatori, l'impegno delle famiglie per sostenerli e anche l'impegno dei giovani per praticare uno sport che sicuramente non dà una grandissima notorietà, ma che dà come tutto, abbiamo delle eccellenze, abbiamo sicuramente delle eccellenze, ma che dà come tutti gli sport una grande adrenalina, ti sviluppa un grande senso di appartenenza a una comunità e allora noi è chiaro che, per esempio, ti mette sulla strada in questo caso in maniera positiva, ti mette sulla strada in maniera positiva, perché ti allontana dagli svaghi quelli che non servono a niente, che chiamarli svaghi è pure un errore, e allora noi anche quello è un impegno che dobbiamo prendere, piuttosto che regalare soldi a destra e a manca a iniziative che nulla hanno a che fare, per esempio noi abbiamo a Trapani la volata Napolamo Carta, che è un evento di caratura nazionale, alla volata Napolamo Carta ha partecipato il presidente della FIDAL, un grande atleta, Stefano Mei, è stato campione europeo a Spalato, io me lo ricordo perché in quegli anni praticavo anche l'atletica e ricordo come si allenavano, ho visto allenare Toto Antibo, un grande siciliano a cui va ovviamente il mio saluto e il mio omaggio, e quando facevo l'atletica, quando ho visto come si allenava Toto Antibo, ho detto no aspetta, è veramente faticoso, no forse è meglio non farla più, no al di là della battuta, allora quelle iniziative lì che possono creare anche turismo, che possono creare anche turismo perché lo sport può muovere molte persone, allora invece di aiutare la sagra che serve per far mettere in tasca qualche centesimo a chi lo organizza in tasca, si sostengono eventi sportivi importanti che possono portare centinaia di persone da fuori, dal resto del paese e far vedere il nostro agro, il nostro mare, è forse qualcosa che merita di più, lo stesso può valere, io per esempio da presidente del circolo tennis, ma anche i miei amici del circolo canottieri hanno organizzato un torno di padel importante di l'icaratura nazionale dove c'erano atleti di grande livello, allora se si aiutasse a far crescere... Abbiamo prodotto piccole campioncine... Eventi, esatto, abbiamo anche una piccola campionessa, se si aiutasse a crescere questi eventi che richiamano l'attenzione di atleti di caratura nazionale non solo, probabilmente riusciremmo a creare anche turismo in questo senso, del resto io da assessore... Ed economia, perché magari qualcuno... Ed economia, considerate che, guarda io per esempio ho organizzato l'anno scorso insieme all'Aiat, che è l'associazione italiana Avvocati, un torneo che ha portato 200 persone, 200 persone, i primi di settembre in città, 200 persone che poi sono tornate anche quest'anno alcune, perché si sono appassionate alla nostra città, e allora è chiaro, quello non è un evento che merita il sostegno della regione perché è un evento associativo particolare, ma l'organizzazione per esempio di un torneo nazionale come quello che è stato organizzato dai canottieri, come quello che è stato organizzato dal circolo tennis per qualche anno, il torneo sulle Saline, dove abbiamo avuto 70 seconda categoria, quindi il top del tennis nazionale a Trapani, se probabilmente avessimo avuto un sostegno invece di disperdere soldi nei vari rivoli avremmo fatto qualcosa di meglio. Quindi c'è da puntare sulle infrastrutture sportive. Noi potremmo puntare sui campionati europei di pattinaggio, il nostro pattinaggio a questa cultura, mi dicevano che il pattinaggio può portare fino a 3500 persone in città, e allora perché la regione deve voltarsi all'altra parte e non sostenere questi eventi? È chiaro che a chi organizza questi eventi bisogna chiedere programmi ben precisi, bisogna chiedere trasparenza. Le infrastrutture sportive. Ci vogliono le infrastrutture sportive. Ma guarda, questo è quello, ripeto, si sono divisi 981 milioni di euro ultimamente alla regione, se avessero dato al comune di Trapani 600-700 mila euro? Non tantissimi. Noi avremmo per esempio già potuto portare avanti il progetto esecutivo per la ristrutturazione della palestra PINCO, che è finanziata. Abbiamo difficoltà perché con quota 100 i nostri uffici sono svuotati, non possiamo pretendere che 5 dipendenti facciano il lavoro di 20, e allora probabilmente se invece di regalare 50 mila euro alla società diizione XA, avessero chiesto ai comuni, agli enti locali, ditemi quali sono i progetti strategici, noi abbiamo un palafone di 10 milioni di euro. Valutiamoli. Probabilmente, e questo è qualcosa che la deputazione deve fare, deve farsi ovviamente sostenitrice di progetti importanti. Va bene. Dove sarai in questa fine settimana? Stasera, come detto, sabato sarò ad Alcamo. Se si mangia vengo, si mangia. No, no, non si mangia. Allora non vengo. Diciamo, non mi farei dire cosa è brutta. Taccio per amor di patria. Sarò ad Alcamo, sarò a Castelvetrano e poi domenica farò tutta una serie di piccoli incontri con associazioni, con esponenti anche della politica locale che mi hanno chiesto di fare alcuni incontri, e quindi sarò in giro per tutta la provincia, Campobello, Partanna, probabilmente dovrò essere a Partanna, quindi sarò un po' in giro. Va bene. Ci rivediamo, Danto, da qua al 23, che è l'ultimo giorno di messa in onda. Sì, sì, da qui al 23 ci rivediamo. Poi speriamo di rivederci il 26 per poter festeggiare insieme la vittoria. Dipende da te, ma di te. È la vittoria soprattutto di questo territorio. Se li convinci, ti votano. Perché questa volta noi abbiamo scelto di essere in campo per il territorio. È chiaro, noi abbiamo la nostra, ciascuno di noi e la sua storia. La mia storia non si cancella, però io voglio essere in campo in primo luogo per il mio territorio, perché questo è quello che ho maturato facendo l'amministratore di una città bella e importante come Trapani. Grazie a Dario Safina, grazie a voi che ci avete seguiti. Questa è stata Respubblica Sicilia Chiama Europa. Buonasera.